Buongiorno signori, l'amalazzo gomme di Castellammarelli di Stabia vi sta mostrando una delle pelle della sua ditta un fantastico ciclo di beca che adesso lo andiamo a equipaggiare su una Crunch Rover E-Walk è un ciclo tutto nero, lucido, lo diamo andato veramente super speciale, super spettacolare vai! Andiamo a fare il montaggio della bavola TPMS vai! va! va! vai ragazzi questo kit è un kit per un range rover evoke da 20 pollici cecchilega nero lucido diamantato con quattro preomaggi bridgeson 245 45 litri guardate qua un cecchio veramente super spettacolare adesso andremo a mettere una ciliegina sulla torta guardate qua il tappetto cromato guardate che differenza con la cromatura guardate che bello ragazzi è veramente una cosa super spettacolare non esitare a chiamarmi al 334 25 50 93 ritorno bruno marrazzo castella mare di sabbia ciao ciao